buona l'intersuola, una buona ammortizzazione, una buona reattività sicuramente non è una zoom fly che ha quella piastra che ti aiuta a spingere di più ma sei te che devi saper usare la scarpa e saperla spingere se potessi tornare indietro soltanto di qualche mese, diciamo a gennaio 2020 mi scriverei una gara soltanto per capire a quanto potrei spingere queste nuove Top Athletics Flylight 3 in realtà non lo potrò fare per un po' ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni durante la primavera anche perché come sapete è stato appena tra virgolette scoperto il nuovo vaccino della Pfizer per chi non lo sapesse per me ad Andrea Top Athletic, azienda americana con una presenza in Italia da qualche anno sta lanciando modelli davvero molto interessanti ne abbiamo recensiti altri nei mesi scorsi, vi allego tra l'altro il link delle Zephyr che è la scarpa che mi è piaciuta di più ma senza divagare troppo vediamo le specifiche di questa Flylight 3 23 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, differenziale 3 sono tra l'altro il terzo modello della collezione light buona per non dire ottima sensazione di contatto al terreno tra l'altro pesano davvero poco, su internet c'è scritto 238 grammi in realtà sono solamente 218 nella versione maschile sotto i 200 grammi in quella femminile tra l'altro quella maschile US 9 che è il modello che abbiamo testato come potete osservare se siete iscritti di lunga data del canale hanno una tomaia molto simile a quella delle Moneyfly 3 una tomaia che definirei tradizionale in mesh ingenerizzato super traspirante tra l'altro solito stile della casa topo con un'ampia zona per lo spazio delle dita l'ampio spazio in punta in effetti consente al piede di aprirsi in modo naturale favorendo l'attivazione muscolare in tutta la catena cinetica come già dicevo il resto è molto simile come costruzione a quella delle Moneyfly 3 che abbiamo recensito prima delle vacanze vi rimando al link qua sopra mi preme comunque sottolineare che la leggerezza si sente tutta se vi sentite in forma, se avete un peso ottimizzato direi che questa scarpa per me è adatta per tutti i colori che cercano di passare ad uno stile di corsa più naturale questa è una vera transizione con un Drop 3 prima di passare la parola ad Andrea per una valutazione complessiva della scarpa e il suo comportamento nella corsa mi farebbe piacere che vi iscriveste al canale e attivasse le notifiche abbiamo ancora oltre 10 recensioni di scarpe da qui a fine anno tra l'altro non dimenticate di suggerire nei commenti qui sotto quale ulteriore scarpe vorreste testare qui sul canale e se volete senza impegno buy me a coffee utilizzeremo i soldi derivanti dalla colletta per realizzare ulteriori recensioni che saranno a disposizione di tutti i podisti amatori ora lascio la parola ad Andrea dalla pista di Garbagnate recensione che a scanso di equivoci è stata realizzata prima del 3 novembre ossia della data dell'ultimo di PCM oggi invece è la giornata dei single il mio coniglio si sta innamorando delle mie scarpe Andrea non è single ma per parlare dei pregi e difetti di questa scarpa chi meglio di lui lo può fare lasciamo la parola ad Andrea dal campo di Garbagnate scusami Max ciao a tutti intanto ma quella lì non va in giù questa va dritta ma sei tutto a posto no va bene siete il regista sono io il regista Fellini ciao Andrea tutto bene? ciao Max tutto a posto dicevo che sono seduto un po' malino ma vabbè ma oggi che scarpe recensiamo? guarda questa sicuramente è la Flylight di Topo Athletic più che altro ho spinto io per recensirla subito perché ormai l'avevo già testata la continuerò ad usare perché mi sta piacendo però diciamo che credo di aver ormai scoperto abbastanza anche qualche imperfezione che ha quindi direi che i tempi sono maturi e cosa ne pensi in generale? allora in generale devo dire che appena vista era praticamente identica a una Magnifly e devo dire che anche come calzata e come tutto è molto simile alla Magnifly che non mi ricordo non so neanche se l'avete visto il video mi era piaciuta davvero tanto come scarpa e anche questa non ha disatteso le mie aspettative nel primo video dissi che la scarpa era il modello 3 per il drop ma in realtà è perché è la terza versione a chi sono adatte queste scarpe? guarda questa qua è una domanda abbastanza particolare è una scarpa che secondo me può essere adatta a tutti con determinati accorgimenti ormai il drop 0, drop 3, drop 4 non lo sto più soffrendo diciamo all'inizio qualche problemino al polpaccio di affaticamento e soprattutto sugli allenamenti più lunghi ce l'avevo adesso praticamente mi sembra di avere una scarpa super normalissima al piede mi fa correre di avampiede mi fa spingere di avampiede come si dovrebbe correre forse per i tallonatori seriali è un po' un problema perché rischiamo di avere un po' di problemi di più al tallone con l'impatto diciamo che non è una scarpa nata per i tallonatori quindi per chi ha una buona meccanica di corso è sicuramente una scarpa adatta a qualcun altro magari come scarpa di transizione ma per fare qualche allenamento non troppi magari le prime volte non troppo lunghi da 6-8 km circa e per fino a che peso del podista? guarda una a due quindi comunque persone relativamente leggere sotto i 70 kg direi che forse tra i 65-70 kg è perfetta potrebbe essere addirittura una scarpa maratona per chi ne pesa sotto i 65 kg per dire e venendo alla domanda per quali distanze le utilizzeresti? guarda la distanza siamo sempre lì avete digerito i drop bassi io l'ho usata sui medi da 18 km senza problemi quindi secondo me fino alla mezza maratona è una scarpa super in maratona è una scarpa abbastanza impegnativa ma se ho una buona meccanica di corsa potrebbe essere una scarpa anche divertente da utilizzare direi cose la spera in dire nel senso che è davvero divertente però fatica abbastanza i polpaci se riesco a correrci bene mi porterà a fare un'ottima gara se no rischiamo di affaticarci troppo e a livello di velocità l'abbiamo vista che l'hai testata sul medio cosa dici? guarda l'ho testata sul medio non ho avuto il coraggio di testarla sui 3000 perché la reputo comunque è una scarpa veloce ma non velocissima quindi da ripetute secche con recupero passivo e l'intersuola cosa ne dici? l'intersuola direi che mi sembro più durina di quella della Magni Fly non ho provato a tocchicciarle tutte e due però in generale quando ce l'ho al piede è un'ottima scarpa e ti dirò di più l'ho usata anche per fare i lenti quindi buona l'intersuola, una buona ammortizzazione, una buona reattività sicuramente non è una zoom fly che ha quella piastra che ti aiuta a spingere di più ma sei te che devi saper usare la scarpa e saperla spingere e abbiamo già testato 4-5 modelli di Topo quanto credi che sia la durata di queste Flylight 3? guarda forse con questo ci arrivo a 500-600 km forse di più verso i 600 km mi hanno un po' fregato perché avevo detto tipo le Magni Fly sugli 800 km alla fine credo che le pensionerò qualche chilometro prima non tanti perché dopo la suola nella parte nera si consuma poco poco mentre nella parte bianca invece che è molto più morbida si consuma più facilmente però per il resto anche le Magni Fly mi dispiace un po' buttarle via perché davvero mi sono trovato da dio e a livello di numero stesso numero oppure essendo una scarpa da gara mezzo numero in meno? guarda ti dirò Topo non so se l'abbiamo già detto fa il collare abbastanza stretto e la pianta larga quindi il piede sta molto comodo ma bello stretto e preciso quindi stesso numero numero americano guardate sempre l'americano i centimetri delle solite scarpe che avete e quali credi che siano i punti di forza e debolezza di queste Flylight 3? allora parto dall'unico punto di debolezza perché così non me lo dimentico mi ha fatto una fiacchetta sotto all'alluce credo che siano stati 18 km in pista con questa scarpa hanno un altro piccolo problemino ma quello lì è un piccolo problemino di tutte le Topo fanno abbastanza fatica sul bagnato sulla pista nostra vabbè noi a Garbagnate abbiamo una pistaccia quando è bagnata faccio abbastanza fatica a spingerle avevo provato anche un medio sull'asfalto bagnato anche lì un po' di fatica e invece punti di forza molti super scarpa secondo me dal lento allo svelto al medio è un ottimo scarpa per farle ripetute anche ripeto io non le ho volute provare a 3 al chilometro perché sto utilizzando altre scarpe però dai 3,20 ai 4,40 per dire le potrei usare tranquillamente è davvero una scarpa polivalente forse questa qua non è dico le scarpe che mi porterai in vacanza mi piace anche come Tomaia guarda sono davvero contento è una bella scarpa e a che scarpe assomigliano? quali scarpe simili? guarda farei fatica ti direi una Boston ma più morbida ti direi una Zoom Fly più bassa perché comunque anche la Zoom Fly mi fa correre tantissimo di avampiede credo che il tallone quasi non lo appoggio stessa cosa questa scarpa ma ovviamente ha molta meno ciccia sotto e quindi è diversa sembra una Zoom Fly ripeto che devi saper spingere tu la Zoom Fly un po' ti dà l'aiuto a lei invece questa cosa la devi spingere te infatti mi sto trovando da Dio per quello perché comunque il piede lo sento e so quello che devo fare con questa scarpa va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao alla prossima dimenticavo di dirvi che io sono Massi se vi è piaciuta questa recensione sappiate Matteo intanto ha vinto sappiate che nei prossimi giorni ci occuperemo ancora di scarpe, tecnologia e di corsa nel frattempo stay strong ci vediamo alla prossima sul canale e vi lascio al coniglio che sta analizzando come al solito la mia bellissima scarpa ciao a presto ciao a presto